Buongiorno, quanto è bella Pordenone? Siamo stati con Fabrizio ieri in giro per la città e ci siamo un po' innamorati della città, non uno dell'altro. Però parlando di coppie, di amore. Allora io volevo dirvi una cosa, intanto volevo presentare un libro, un ultimo libro che si chiama Lenti Sfatti, che parla appunto di questo periodo che io chiamo ipermoderno e che è un periodo completamente differente dal periodo postmoderno che c'è stato prima. È molto interessante questo fatto perché noi tendiamo a rimanere sempre un po' indietro e ancora ogni tanto ho degli studenti che mi parlano di Bauman. Ma Bauman, con gli amori liquidi, racconta una storia completamente differente da quella attuale. E se vogliamo invece avere un referente di questi tempi ipermoderni, per esempio c'è un referente tipico di questa epoca che è Ben Chungha, che pensate è un coreano ordinario di sociologia Heidelberg. Quindi il più grosso lettore della cultura occidentale che è in realtà un coreano e che proprio dalla distanza della sua cultura riesce a guardarci e a guardarci bene. Io vado, come faccio? Ecco, se un marziano arrivasse, se un marziano arrivava negli anni Sessanta col compito di sapere cos'era una coppia, era molto facile. Perché più o meno le coppie erano un uomo e una donna che abitavano insieme. Quindi sarebbe arrivato, arrivava da Marte, aveva questo compito, tornava via assolutamente velocemente, avendo chiara cosa fosse una coppia. Perché in qualche modo le coppie si assomigliavano tutte, nel bene e nel male, però erano una struttura sociale ben definita. Se un marziano arriva oggi con lo stesso compito dato dai suoi confratelli da Marte, avrà una difficoltà pazzesca. E avrà una difficoltà pazzesca perché abbiamo tipologie incredibilmente differenti di coppie. Abbiamo due donne, abbiamo due uomini, abbiamo trippie. La prima trippia nel cinema è stata un film, in questo momento non mi viene in mente, con Vanessa Redgrave, Julie Jim. E' un film degli anni 60, 5, 70, ma ci sembrava una cosa assolutamente stravolgente, strana. Mentre adesso una coppia, una relazione, l'amore, sono quello che emerge dall'uso che quelle specifiche persone fanno del termine coppia-relazione-amore. Cioè abbiamo una capacità di autodefinirci rispetto a coppie-relazioni-amore. Dov'è finita? Io ho bisogno che qualcuno mi tenga il tempo, dopo me lo dite voi quando è passata la mia ora. Un po' di tempo fa sono arrivati due ragazzi in terapia, uno era americano, volevano una terapia di coppia, uno dei due aveva un enorme impermeabile, pioveva tantissimo a Roma, si apre l'impermeabile e sotto l'impermeabile c'era una bellissima bambina nera-nera con i ciucciotti colorati ed era una coppia omosessuale in cui lui, essendo americano, aveva adottato un bambino. E la coppia era entrata in crisi proprio su questa adozione, l'altro era italiano, era entrata in crisi proprio su questa adozione. Allora io ho avuto un attimo di shock perché mi aspettavo una coppia e andava benissimo, ma quando è arrivata la bambina, io sono uscita, mi sono lavata la faccia, ho detto che bello, è una nuova sfida e poi mi sono seduta per terra con la bambina e abbiamo iniziato a chiacchierare e mi sono perdutamente innamorata naturalmente di quella bambina. Perché appunto abbiamo, allora cos'è una coppia? L'unione di persone e metto più perché nel mio studio arrivano trippie. E guardate che le chiamo trippie perché sono persone che sono tre e vivono... L'ultima trippia è stata una donna con due uomini musulmani, fra l'altro, interessante, due fratelli. E lei è arrivata prima da me con la situazione che era diventata l'amante del fratello del marito e è venuta poi a chiedermi... Lei voleva un figlio e io ho osato metterli tutti e tre insieme nella stessa stanza. Ed è stato molto interessante perché naturalmente il marito sapeva benissimo. E il marito è venuto molto volentieri e ha messo una condizione, che il figlio fosse suo. E secondo me ci stava questa possibilità, no? Però vi rendete conto con che problemi, che problemi affrontiamo costantemente? Sono costantemente dei problemi etici. In cui noi non possiamo decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Dobbiamo solo aprire. Dobbiamo essere accoglienti e capire che possiamo aprire al possibile. Perché devono essere gli altri che definiscono le loro leggi morali. Non possiamo essere noi. Non possiamo funzionare sul giusto e sbagliato secondo i nostri parametri. Quindi che cos'è una coppia? L'unione di alcune persone in intimità. Che condividono una dimensione emotiva, una dimensione sociale e una dimensione sessuale. Perché definiamo una coppia però? Io credo che queste tre dimensioni debbano in qualche modo sussistere tutte e tre. Quindi... E poi dico, ogni relazione di coppia è fatta sin dall'inizio di giochi, di regole, di rituali. E la coppia non è altro che la parte visibile di un sistema più ampio. È l'incontro di due mondi interni. È come un iceberg, lo vedremo fra un momento. È come un iceberg in cui noi vediamo solo la parte emersa. Ma sotto c'è tantissimo altro. E questo tantissimo altro è la ricchezza che dobbiamo far emergere in terapia, no? Una coppia in crisi è una bella scatola che però è vuota. Un contenitore senza contenuti. E moltissime coppie in questo momento storico arrivano con delle scatole vuote. E arrivano con delle scatole vuote proprio perché l'epoca ipermoderna fa sì che le persone siano organizzate dalla produttività. Cioè quello che sta succedendo è che ci arrivano delle coppie che fanno, fanno, fanno. Ma si conoscono pochissimo. E pochissimo. E a un certo punto, è come due rette parallele che camminano. E a un certo punto uno dei due va a comprare le sigarette. Perché ha incontrato un'altra persona che gli ha dato un'emozione. Non capiamo neanche bene, neanche loro sanno perché. Perché la coppia non ha fondamenta. E questa è una cosa che sta accadendo. Però se dovessi passarvi una idea sulla terapia di coppia, è quella che nella crisi non c'è un persecutore, non c'è una vittima. Cioè direi che questo è il diktat per noi psicoterapeuti. Non c'è un persecutore e non c'è una vittima. Mai. E adesso qui sono politically incorrect dicendo una cosa del genere. Rischio di esserlo. Perché sulla violenza, per esempio il femminismo dice che è sempre colpa del maschio. Stiamo attenti, ci sono dei giochi. E i giochi, se riusciamo a andare a vedere i giochi, possiamo incontrare uno dei due, la vittima, che si è abituato ad essere vittima. Che esorta, che tira fuori la persecuzione dell'altro. Perché magari la madre è stata vittima e magari la nonna è stata vittima. Quindi anche nelle situazioni di violenza, almeno per un momento, dopo averli messi in sicurezza, diventa necessario andare a vedere il gioco che c'è dietro. Ed è sempre un gioco a due. Anzi, è un gioco a più di due. Ma noi possiamo almeno vedere il gioco a due. Un attimo di sospensione, un tempo sospeso. Primo li metto in sicurezza, poi vado a vedere il gioco e poi decido, per esempio, perché noi abbiamo un doppio mandato, un mandato di spiegare quello che avviene, ma anche un mandato di agire, un mandato sociale. E per esempio dobbiamo decidere se questa coppia può stare insieme, se uno dei due, la vittima, è in sicurezza oppure no. Ho lavorato ultimamente in Inghilterra, ultimamente era un anno e mezzo fa, al Marlboro Family Center, dove cominciano a esserci le donne violente. E sono tantissime. E sono violentissime. Io ho avuto un paziente la cui moglie gli ha cavato gli occhi. Lui è diventato cieco. Una coppia, lei nigeriana e lui americano, e lui arrivava col bastone e il cane da me, perché la moglie gli aveva cavato gli occhi. Ed era interessante, perché lui aveva fatto finta di non vedere la violenza crescente di questa donna. Lui era un negatore, il quale era lì per caso. E è stato altamente punito. da questa situazione. Cieco, cieco a vita. Un altro pregiudizio che volevo sfatare, e di cui appunto parlo nel libro Letti Sfatti, è quello che l'amore è sempre uguale. Cioè l'amore è l'amore. No, non è vero. Il modo di amare cambia assolutamente nel tempo. E non abbiamo tempo oggi, però la coppia patriarcale non esisteva quasi, perché contava la famiglia almeno trigenerazionale. Quindi la coppia era un aspetto sociale in cui due persone si univano per ragioni economiche, per ragioni di status, per ragioni di salvezza sociale, per poter vivere insieme, per poter sopravvivere. E poi, se erano fortunate, stavano bene anche insieme. Se erano fortunate, la loro vita sessuale fioriva. Se no, quello che succedeva era che la donna era il ministro degli interni e l'uomo andava altrove. e aveva una doppia vita molto spesso. Abbiamo poi un periodo interessante e neoromantico. Sto parlando degli anni 50. C'è un bellissimo libro di un americano che si chiama Updike, che si chiama Coppie, e comincia a raccontare... è l'invenzione della coppia. Il momento che si inventa la coppia nasce anche la gelosia, nasce anche il tradimento. La donna patriarcale che viveva, il cui marito aveva un amante, faceva molto spesso finta di non saperlo. Oppure si arrabbiava molto, ma non era un evento. La coppia, il neoromantico, è l'epoca in cui, invece, nasce la coppia romantica, nasce l'idea della sessualità, del godimento, nasce il problema del piacere delle donne, nasce anche il tradimento, nasce anche la gelosia. Quindi è un'epoca assolutamente differente da quella precedente. Abbiamo poi quello che io ho chiamato gli amori emancipati. È Eva che lega un albero a Damo e Dio e se ne va nuda a godersi la vita. È un'epoca di grande sperimentazione. Rendiamoci conto anche di quello che succede nel mondo. Nel periodo emancipato si comincia a parlare di divorzio, si comincia a parlare di aborto, iniziano la pillola anticoncezionale. Cioè cambiano anche i tecnicismi intorno alla coppia e quindi abbiamo nell'amore emancipato, per esempio, le donne che insegnano agli uomini a dargli piacere. Io sono stata una femminista e ne sono fierissima. Ha cambiato la mia vita. Poche cose hanno cambiato la mia vita. Il femminismo sicuramente sì. Mi hanno dato una sicurezza e un diritto a esistere che altrimenti forse non avrei avuto. E adesso avere delle ragazze che simulano l'orgasmo, e sono tantissime le ragazze che simulano l'orgasmo, mi indigna. Perché vuol dire sottostare a dei principi patriarcali di protezione del maschio, anziché prendersi la vita nelle proprie mani e insegnare all'altro a darci piacere. Mi indigna. Ma sono tantissime le ragazze in questo momento storico che simulano l'orgasmo. E è interessante perché ha una definizione di coppia che dice qualcosa, no? Perché cosa vuol dire? Vuol dire io ti proteggo, io faccio finta fino a che non scoppio. Oppure faccio finta e poi te la faccio pagare in altri modi. E quindi poi abbiamo l'amore postmoderno che io ho identificato con un narciso, un uccellino che si guarda. Io ho un libro che si chiama Ho sposato un narciso che è uscito nel 2006 e è ancora il best seller della casa editrice Castelvecchi. Pensate voi. Perché è stato un titolo assolutamente azzeccato e infatti volevo a tutti i costi che fosse un... Però abbiamo una società sempre più individualista, no? Il postmoderno. E poi abbiamo questa epoca. Questa epoca ipermoderna che è un momento di crisi. Ci sono i migranti. Abbiamo Salvini, che... Dio lo strafulmini. Abbiamo avuto l'Occidente... Scusatemi, ma devo farlo. È la mia umanità. L'idea che i migranti siano mandati via. So che lo... Sto entrando in un... Meglio di no. In un terreno difficile. Però basta. Però ogni migrante cacciato... E è di stamattina che... Ogni migrante cacciato è un pezzetto di me che viene rotto, tagliato. Perché siamo umani e dobbiamo in qualche modo accogliere. Mi dispiace, ma lo dico anche. Però è un'epoca della crisi dell'Occidente. È un'epoca di solitudine. È un'epoca di narcisismo. È un'epoca di estrema produttività. E quello che succede è che l'amore entra in crisi. E entra in crisi in maniera... L'amore, dico qua, al tempo della crisi fatica a trovare un senso all'esistenza. Agire diventa più importante di pensare. C'è un iperconsumo ludico del futile. I legami sono molteplici, i modelli plurimi. E abbiamo nuove forme di convivenza. È il primo momento in cui la convivenza supera i matrimoni, per esempio. È il primo momento in cui il sociale è relegato in secondissimo piano. Pochissime sono le persone che si occupano del sociale. E questa è un'altra perdita dell'umanità. Gli individui sono autarchici. Gli amori sono a termine. Arrivano persone... Prima, vent'anni fa, per fare un genogramma, come io comincio la terapia, mi bastava un foglio. Adesso ho bisogno del foglio doppio. Perché ci sono secondi matrimoni, terzi matrimoni, rincontri. Ci sono situazioni di convivenze, ma anche di tradimenti stabili. Per le donne è mutato il modo di stare al mondo. E sempre di più uomini e donne hanno rapporti fraterni. In America ci sono queste nuove coppie, assolutamente poco sessuali, di due persone un po' androgine tutte e due, sempre più simili, fratelli, che stanno insieme per solidarietà. E è molto interessante, perché credevo che essere innamorato ti rendesse felice. Dove hai preso questa idea? In questo momento storico l'innamoramento e l'amore sono fonte di preoccupazione, non sono un a che bello vinto all'otto. Sono che paura. C'è una paura di soffrire per amore. Io lo dico sempre ai miei pazienti. Guardate che soffrire per amore ci fa crescere, ci fa capire le nostre dinamiche interne. Eppure c'è un'idea che soffrire per amore spezzi l'io, uccida il self, uccida la persona. E c'è un'idea proprio in questo modo, per cui le persone disperatamente cercano. E la storia del... Spero ti faccia sorridere qualcuno. Lasciala andare, è me che vuoi. E le storie con i draghi e le principesse cambiano. Sono cambiate in ogni modo, no? Perché ci sono nuove forme di innamoramento e di amore. Se nel 1983 la famiglia era tutta intorno al desco, nel 2013 anche il cane ha il suo smartphone. Chi è che viene in terapia? Vengono in terapia donne stufe, tantissime, sono più le donne che se ne vanno, donne che hanno fatto crescere i figli e intorno ai 50-60 anni mollano il partner. Che le ha date per scontate fino a quel momento, che pensava che fossero una costante nella loro vita, come la mamma, no? La mamma non si mette in discussione, anzi si può vomitare a casa tutto il proprio malessere, invece scoprono che queste donne dicono bene, adesso io me ne vado. Coppie che stanno cambiando valori, donne sole. Tra i 30 e i 40 anni il numero, non so se le avete anche voi, alzate la mano chi ha tanti clienti con donne sole? Sì, un po', ma non tantissime, ma donne che non trovano un partner. Siamo in una fase in cui la donna vuole un figlio, abbiamo un numero altissimo o di donne sole o di coppie che entrano in crisi perché la donna ha detto voglio un figlio intorno ai 40 anni e il maschio, magari 45, magari 50, dice non sono pronto. E' difficilissimo il momento che arrivano da me riuscire a dire, a non dire ma guarda questo bambinone, no? Eppure noi come terapeuti dobbiamo fare proprio questo, cioè dobbiamo entrare nel gioco. Perché questa donna si è scelta questo uomo? Cosa le... In che modo è utile alla sua crescita personale incontrare proprio questo signore che dice non sono pronto? E non è un persecutore e una vittima. Sono due persone che con il loro livello di consapevolezza sono entrati in questa dinamica che serve a tutte e due per aumentare i gradienti di consapevolezza. Perché io credo che tutto quello che ci succede nel mondo è una lezione per andare avanti e che il nostro obiettivo nella vita è quello di diventare sempre più consapevoli e da ridare la consapevolezza in qualche modo all'universo quando moriamo. Allora, coppie che non si sono formate, queste scatole vuote, queste persone che camminano e poi coppie con amori virtuali perché dobbiamo tener conto anche di questo. Persone... ho avuto una coppia che lei lavorava le poste e lui faceva il geometra del comune, si incontravano pochissimo, mangiavano velocemente insieme per poi ognuno andare al suo computer. La cosa bella è che hanno scoperto in terapia che si erano incontrati con i loro nickname. Come Doppio sogno di Schnitzel che è un bellissimo libro che vi consiglio se avete, se dovete fare, se fate terapia di coppia. Un libro meraviglioso sulle coppie in cui appunto c'è un livello di realtà cattivo e in un carnevale di Venezia queste due persone che si incontrano invece a livello immaginale con le maschere in faccia e hanno una vita che funziona. Allora, una coppia... Io non so a che punto sono, ma... No, è tempo. Ho tempo. Una coppia che chiede aiuto si mostra bloccata nelle dinamiche della coppia e di ciascuno dei partecipanti. Di solito usa ripetizioni che già si sono dimostrate fallimentari e continua a riproporre il circolo vizioso. Ciascuno dei due è usualmente molto occupato a cambiare l'altro e non considera la propria partecipazione nel gioco in atto. Le coppie sottoscrivono dei contratti. Ve lo dicevo prima, un iceberg, la parte emersa è costituita da norme esplicite e accordi consapevoli. La parte sommersa da vincoli, certe volte, di natura appunto affettivo-emotiva, certe volte che anche le coppie sanno. C'è un bel libro di Moniel Caim che si chiama Se mi ami non amarmi, in cui lui dice questo praticamente, le coppie si incontrano con un bisogno esplicitissimo di amore. Amami, amami, amami di più, amami meglio, amami al meglio, ma alcune persone si incontrano proprio con un bisogno di distanza che deriva dalla loro storia precedente e questo bisogno di distanza non viene esplicitato, certe volte non viene neanche conosciuto dalle persone che stanno insieme, ma è un'esigenza profonda, intima. Io ho bisogno di distanza, più ti dico amami e più ho bisogno di distanza. e il nostro compito, io ho scritto un libro che si chiama Ricursività in psicoterapia in cui parlo della terapia come operazione di secondo livello, il nostro compito è quello di lavorare sul rapporto tra gli aspetti comportamentali e gli aspetti mitici e è così che otteniamo la riflessività, la ricursività tra due livelli, perché la terapia è differentissima da un rapporto d'amicizia. E cos'è che la differenzia? La differenzia proprio il fatto che noi come terapeuti dobbiamo mettere in atto operazioni di secondo livello, che vuol dire operazioni in cui noi riflettiamo sulle categorie che utilizziamo, riflettiamo sui feedback che otteniamo e otteniamo una profondità di campo proprio dovuta a questa ricursività, cioè la capacità di riflettere sulle proprie riflessioni, che è il nostro assolutamente specifico. Parliamo di contratti fraudolenti in quanto ciascuno coglie l'immagine dei bisogni profondi dell'altro e interviene sui propri, promettendo di attendere quelli dell'altro. Però le coppie non ne sono consapevoli. Quindi abbiamo un ciclo vitale dell'amore con delle premesse. Uno, ad amare si impara. A 50 anni una donna, un uomo sono più capaci di generosità amorosa che a 25. Non ci sono santi. Stavo per dire anche a 60 o a 65 o a 70. ma c'è ancora un tabù sociale su questo, grossissimo. Una mia amica della mia età vecchietta si è innamorata di un uomo, ha rincontrato un uomo pochi mesi fa, lo ha detto ai figli e uno dei, a cinque figli col primo marito e uno dei figli ha detto che schifo. Cioè l'idea della sessualità di una più che sessantenne gli faceva schifo. Un'altra dei figli ha detto non ti vergogni mamma, non ti vergogni mamma, ma è un dono del cielo. Uno dovrebbe dire mamma sei stata baciata dalla fortuna, fra l'altro sei stata baciata dalla fortuna perché di te si occupa il vecchietto invece che dover me ne occupare io fra le altre cose se proprio vogliamo essere egoisti. Ma invece che schifo o non ti vergogni mamma e mio figlio vedendola è una amica carissima dice mamma l'amore aveva un piede nella tomba Anna adesso è una ragazzina e quindi è divertente no questo fatto. I bisogni e i desideri cambiano del tempo e un altro presupposto fondamentale chi non si ama non sa amare. Quindi l'amore passa attraverso l'accettazione e l'amore di sé. E poi abbiamo un ciclo vitale della coppia che è quasi inevitabile. Abbiamo un incontro abbiamo la fase dell'innamoramento che è una fase dell'illusione la formazione la unione fusione l'investimento nel noi la collusione ognuno si specchia negli occhi dell'altro il primo contratto fraudulento in cui il livello delle regole e dei bisogni in qualche modo combaciano e è il livello dell'illusione poi abbiamo la nascita del primo figlio la fatica del tripolavoro la quotidianità il dentro e il fuori il sociale altre nascite nuove regole la routine e abbiamo ineluttabilmente la fase della delusione sto ripetendo delle parole di Cecchin uno dei nostri maestri su illusione delusione disillusione e poi a quel punto la fase della delusione è quasi inevitabile a quel punto le coppie scelgono la maggior parte è decisa di separarsi quando invece è proprio lì che comincerebbe la vita di coppia perché la fase dell'illusione e la fase della delusione sono endemiche sono naturali a questo punto una coppia comincerebbe a poter scegliere se stare insieme o no e abbiamo la maggioranza delle coppie che si separano proprio perché il sociale gli ha dato il permesso di separarsi e poi abbiamo alcune coppie invece che ricontrattano e la fase della ricontrattazione è una fase fondamentale perché la disillusione no perché subentrano nuove regole ci si incontra ci si vede io dico sempre che quando faccio terapia di coppia siamo in quattro in terapia c'è un lui c'è una lei c'è la loro relazione e poi ci sono io e c'è la loro relazione che finalmente possono vedere perché la maggioranza del tempo è andata come dire naturalmente avanti quindi abbiamo illusione delusione e poi disillusione nuove regole o separazione da noi arrivano sempre nella fase della delusione quali sono i giochi tipici attuali ognuno va per la sua strada vite parallele paura dell'intimità un altro gioco frequentissimo è tu sei il mio nemico quante coppie diventano nemici e quanto è importante lottare contro il nemico e insegnarli a diventare amici sono sulla stessa barca non ci sono santi chiedo che tu che sia tu a cambiare io non c'entro poi abbiamo degli incassi su tipologie di personalità tipo il fobico che cerca il controllante il narcisista che cerca il delusivo i due narcisisti che in qualche modo appunto vanno paralleli oppure l'incastro su tematiche soggettive deludente desideroso di venire deluso ho perso la mamma ho un paziente che ha perso la mamma che si è suicidata e cerca donne che ballano distante cioè che gli dicono di volere la vicinanza totale che lo sgridano perché lui è distante ma in realtà sono dei ghiaccioli sono fredde come il ghiaccio e cerca questa tipologia di donne una via l'altra via l'altra via l'altra perché è un modo per elaborare e superare il suicidio di sua madre che è avvenuto quando lui aveva 16 anni le coppie sono sempre più a termine ma c'è un altro aspetto che rende complicato il nostro lavoro non sempre la crescita individuale e la crescita della relazione coincidono le coppie si scelgono con lo stesso livello di individuazione quindi si scelgono perché sono simili e poi uno dei due va più veloce uno dei due va più lento e quindi a un certo punto rischiano di non incontrarsi più e anche lì anche per noi certe volte sembra quante volte mi dico mamma mia se questo se ne andasse sarebbe libero o se questa se ne andasse sarebbe libera e a quel punto devo stare attento al mio dialogo interno a cambiare io le premesse perché nel lavoro di coppia noi lavoriamo anche inevitabilmente con le nostre premesse ne dobbiamo essere assolutamente consapevoli e il gioco è quello di cambiare noi per primi come mai questa donna e quest'uomo si sono incontrati qual è il valore aggiunto dell'essere stati insieme a cosa serve a lui avere questa demente vicino ogni tanto mi capita o questo demente vicino ogni tanto mi capita perché si è messo vicino o si è messa vicino questa persona che è come un freno a mano cosa gli serve qual è l'utilità di questa situazione e il valore adattativo del sintomo credo che sia un aspetto importantissimo la crisi viene spessa attraverso un quotidiano spiacevole litigi squalifiche ci sono persone che entrano a casa e vomitano usano la casa come un vomitatoio lo stabilirsi di configurazioni sintomatiche in uno dei partner la triangolazione di altri i figli per esempio quante volte il sintomo di un figlio non è altro che un dilemma di coppia in cui il figlio è diventato il capro espiatorio è diventato quello che fa da bullone tra i due li tiene uniti attraverso il suo sintomo si tratta naturalmente di strategie inconsapevoli finalizzate alla difesa della delusione dovuta all'impossibilità di cambiare l'altro alla mancata messa in discussione di sé e all'incapacità a lasciare la relazione questa idea di le coppie arrivano avendo vi ricordate i modelli di cui parlavo prima avendo quei modelli in testa e molto spesso ci sono tutti quei modelli dentro di loro un modello patriarcale può essere stato il modello dei loro nonni un modello neoromantico può essere stato quello dei loro genitori un modello ipermoderno potrebbe essere quello loro attuale per esempio quindi hanno dentro questi modelli noi portiamo questi modelli dentro di noi e le dobbiamo aiutare i nostri clienti ah questa è una storia bellissima io faccio fare le cose è velocissima e parlerò della 54enne è sposata da 25 anni con un militare medico e ha una relazione da 8 anni con un quasi architetto perché non si è mai laureato si siede e io dico signora raccatti io ho tutti dei oggetti transizionali che chiamo bucciottini e gli dico scelga a se stesso suo marito e il suo amante dopo 10 minuti della seduta indovinate chi è il marito indovinate che chance ha il marito cioè in un minuto di terapia si capisce il destino di questa coppia no lei però mi dice sempre in prima seduta è meraviglioso guardate la faccia del marito io io l'adoro quel marito attonito a un certo punto lei mi dice vengo in terapia perché il mio amante ha trovato un'altra e la trovate tante altre in questi 8 anni ma questa mi sembra definitiva dico la vada a prendere e fa entrare questa questa coppia e dico perché ha scelto due invece di una donna perché lei lo vuole sposare a tutti i costi e da lì comincia la terapia no è chiaro perché è un un gioco molto carino coppia sono due lei ha 40 anni lui 53 scegliete due oggetti che rappresentano la vostra storia oggi e lei dice io scelgo questi perché non si può parlare vedete l'omino con non so mai come cascherà la giornata e da che parte e c'è un corvo che incombe e alleggia lei ha chiesto un figlio e lui ha detto non sono pronto e lui dice ho scelto tre cose le tre cose che mi piacciono meno state molto attenti alla frase soleogia le parlatemi della relazione oggi ho chiesto ho scelto le tre cose che mi piacciono meno che mi danno tristezza che detesto che sono ripugnanti è una bella definizione rispetto alla relazione e lei dice ma dovevi scegliere qualcosa sulla nostra relazione e lui dice ah ah non avevo capito ma meravigliosa no ma ci ha detto le cose che mi piacciono meno che mi danno tristezza che detesto che sono ripugnanti parlando chiaramente della propria relazione no e allora lì io mi sono detta cavolo se dobbiamo fare un grosso lavoro per aiutare quest'uomo a vedere fra l'altro questi due sono rimasti insieme però lei ha rinunciato a fare un figlio e questo mi ha addolorato profondamente perché secondo me è una grossa perdita per questa donna però ho detto cavolo se mi devo dare una mossa per aiutare quest'uomo a apprezzare questo che quello che questa donna mi ha dato e questi erano i primi sette minuti le avevo fatta parlare un quarto d'ora ero stanca quella sera era sera e sono andata subito sugli oggetti transizionali perché servivano a me perché avevo sentito troppe parole in quella giornata perché siamo umani però guardate come ti permette di capire tutto in qualche modo no e allora obiettivo la terapia diventa la riflessione sulla trama rigida portata qual è il valore adattativo del pattern ripetitivo che queste coppie ripropongono costantemente e l'identificazione è di un doppio livello c'è sempre un doppio livello in ogni storia che ci viene portata da chiunque c'è un livello comportamentale e poi lui entra e non mi guarda e non mi dà un bacio e io sto in cucina e cucino e allora inizio a litigare e lo provoco perché non mi ha baciato e questo è il livello comportamentale e poi abbiamo un livello mitico che è il livello che spiega in che modo questa coppia è quello che è e è differente da tutte le altre coppie dell'universo cioè qual è il valore intrinseco e abbiamo un collega sistemico che si chiama Cahier che gioca moltissimo su questi due livelli e per esempio un modo per trovare il livello mitico diventa se voi se tu fatto all'uno e fatto all'altro potessi descrivere con attraverso un'immagine non umana quali sono le relazioni che vi tipiche vostre quali sono queste relazioni e per esempio uno può dire io mi sento come un cerbiato una donna mi ha detto io mi sento come un cerbiato e lui è la quercia lui è stabile fermo immobile e io vado e vengo ogni tanto mi riparo dalla pioggia ogni tanto mangio le foglioline nuove ogni tanto mi riparo dal caldo ogni tanto ci dormo sotto e questo è il livello mitico cioè quello la loro rappresentazione unica della specificità del loro del loro rapporto poi abbiamo un'identificazione del circuito paradossale e uno scopo obiettivo della terapia è la rinarrazione che integri passato e presente individuo e relazione autonomia e intimità perché in qualche no scusate credevo di averne messa un'altra ma invece non l'ho messa perché allora un attimo solo perché io credo che le coppie vanno si uniscono ma hanno bisogno di un circuito in cui si uniscono e poi hanno degli spazi di autonomia e poi si riuniscono e poi hanno degli spazi di autonomia ed è proprio questa coniugazione tra individuo e relazione che è la salvezza di una coppia non stiamo parlando mi dispiace Hermes rispetto al gioco di ieri non stiamo parlando di coppie di quello che dicevamo ieri delle coppie che si fondono e stanno sempre fuse perché delle coppie che stanno sempre fuse sono delle coppie a rischio individuazione in cui rischiano di perdersi non è questo il modello ma è un modello in cui le coppie hanno un'identità separata e poi scelgono di venire insieme poi si separano ma non si separano si separano perché ognuno va a fare le sue cose e poi tornano insieme io direi di finire qui e vi ringrazio moltissimo per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti